Il questore Roberto Pellicone ha scelto di iniziare la sua nuova esperienza esernia con una breve cerimonia dedicata agli agenti caduti nell'adempimento del proprio dovere. Nato a Sondrio 55 anni fa, prima di entrare in polizia ha vissuto gran parte della sua vita a Messina dove si è laureato in giurisprudenza. La sua attività si è svolta prevalentemente in Calabria. Nei 30 anni al servizio della Polizia di Stato si è occupato soprattutto di criminalità organizzata ricoprendo ruoli di responsabilità sia per quanto riguarda i sequestri di persona sia sul fronte del racket. Prima di arrivare a Esernia ha svolto l'incarico di vicario del questore di Reggio Calabria. Sicuramente cercherò di mettere a frutto la mia esperienza anche in questa terra, anche se le problematiche sono sicuramente di tipo diverso. Cercherò di conoscere con l'ausilio dei colleghi le problematiche di cui già sono in parte a conoscenza del territorio e cercheremo di intervenire in modo più efficace possibile per dare delle risposte ai cittadini. Tra le priorità del nuovo questore è quella di creare uno stretto rapporto di collaborazione con i cittadini. Io ritengo sia fondamentale aprire la questura alla gente per far vedere come lavoriamo, qual è il nostro impegno e questo è un modo anche per coinvolgere la gente nel nostro lavoro. Noi abbiamo bisogno fondamentale dell'apporto della gente, della collaborazione, del coinvolgimento della gente per svolgere nel migliore dei modi il nostro lavoro. Entusiasta del nuovo incarico, Pellicone punterà molto sulla prevenzione e il rafforzamento dei controlli sul territorio. Nel mirino soprattutto la microcriminalità con particolare attenzione allo spaccio di droga e ai furti, fenomeni questi che incidono in maniera particolare sulla percezione di sicurezza da parte dei cittadini. Se avremo anche la collaborazione della gente il nostro compito sarà molto più semplice, ma sicuramente cercheremo di intensificare il controllo del territorio, di verificare, mi sono state segnalate alcune situazioni di spaccio nella città di Sernia, cercheremo di intervenire e questa è una delle priorità. Quindi attività di prevenzione da un lato, ma anche di repressione quando è necessario.